Hai recitato anche In Così è la vita, sempre con Aldo, Giovanni e Giacomo. Puoi raccontarci un aneddoto del film della tua scena? Lì facevi l'ispettura di polizia, se non sbaglio, sì. No, scusa, no, com'era il titolo? In Così è la vita. Facevi l'ispettura, allora non te lo ricordi. No, ma non lo confondo con l'altro dei grandi magazzini. Chiedimi se sono felice. Ah, quello è un altro, vedi? No, no, il primo, il primo no, sì. Non mi ricordo cose particolari. Sì, questa scena era un po' veloce, però comunque sembra intensa. Questa qui del... Sì, che facevi il poliziotto. Il poliziotto, sì. Ah, quella sai dove l'abbiamo girata? Nella sede dei servizi segreti. Sì, quella. Bello. Sì, ecco. Non ho immaginato. Questo lo ricordo bene, dopo la sede all'Euro. C'è una sede segreta dei servizi segreti. Ma ora svegliamo. Dove c'è una targa che non è servizi segreti. Tutta un'altra cosa, ovviamente. Ho capito. Sì, è stato curioso quello. Beh, dai. A volte nel mondo del cinema si fanno tante location che magari non le hai viste mai tutta la vita. Grazie a tutti